Come promesso, con questa pillola di latino concludiamo la trilogia di video dedicati all'ablativo assoluto. Nel primo video della serie, al quale vi rimando in descrizione, abbiamo analizzato il caso dell'ablativo assoluto costruito con il participio presente. Nel secondo video della serie, anche qui trovate il rimando in descrizione, ci siamo occupati dell'ablativo assoluto costruito con il participio perfetto. Rimane da esaminare un terzo ed ultimo caso, che è l'argomento del video di quest'oggi. Un caso in realtà piuttosto particolare, meno frequente, cioè il cosiddetto ablativo assoluto nominale. Ce ne occupiamo immediatamente. Perché si chiama in questo modo ablativo assoluto nominale? Perché questa volta l'ablativo assoluto non si costruisce partendo da un participio, è privo del participio. Per quale motivo? Perché il verbo questa volta è sottinteso. Si tratta del verbo sum, cioè del verbo essere in latino, che però non figura nella frase. Dunque in questo caso l'ablativo assoluto è sempre costituito ancora una volta da due elementi, da due parole, ma nessuna delle due è un participio. Ecco perché si chiama ablativo assoluto nominale, perché è formato da due nomi, pronomi, aggettivi, cioè da due parti nominali del discorso variamente combinate fra di loro, come negli esempi che vedremo fra poco. come lo dobbiamo tradurre in italiano? Ci sono diverse possibilità. Molto spesso utilizzeremo anche in italiano un'espressione nominale priva del verbo, molto simile a quella presente in latino. In altri casi invece sarà bene tradurlo con un gerundio presente, ovviamente del verbo essere, quello che era sottinteso in latino. In altri casi possiamo tradurlo con una subordinata adeguata, come abbiamo già fatto nei veri e propri ablativi assoluti. I significati possibili saranno molto spesso o quello temporale o quello causale o più raramente quello concessivo, ma ripeto anche su questo punto ora vedremo degli esempi. Dalla teoria passiamo alla pratica. Ho preparato tre esempi molto semplici e concreti per capire meglio. Ora ve li propongo. Partiamo dall'esempio numero 1, questa breve espressione. Sulla duce. Ecco, è un classico esempio di ablativo assoluto nominale. Come vedete questa volta non c'è nessun participio, c'è il participio del verbo essere sottinteso. L'espressione sulla duce, tutta scritta in caso ablativo, è data da due nomi, sulla duce. Ecco le possibili traduzioni. Partiamo da un'espressione nominale. Cosa significa sulla duce? Sotto il comando di silla, perché dux in latino significa comandante, generale. Sotto il comando di silla. Oppure la traduzione con il gerundio presente del verbo essere italiano, essendo comandante silla. Questa è una traduzione implicita, un po' generica. Possiamo fare ancora meglio utilizzando una traduzione esplicita, con una subordinata adeguata, ad esempio con una subordinata temporale. utilizziamo un quando. Quando era comandante silla. Dunque in questo caso questo costrutto sulla duce è di fatto un modo per esprimere una temporale. Vediamo ora l'esempio numero due. L'espressione me consule. Anche in questo caso nessun participio. C'è il participio di essere sottinteso. Questa volta abbiamo me, che un pronome, più consule che un nome. Dunque lo schema questa volta è pronome più nome. Come prima le tre possibili traduzioni. Durante il mio consolato. Espressione nominale. Essendo io console. Traduzione con il gerundio presente di essere. Oppure, con una subordinata esplicita, mentre io ero console. Anche in questo caso può andar bene il valore di subordinata temporale. Vediamo ancora un terzo ed ultimo esempio. Patre, invito. La coppia cambia di nuovo. Patre è un nome, un sostantivo, questa volta seguito da invito, che è un aggettivo. Ricordate la definizione di prima? Possiamo variamente combinare nomi, pronomi e aggettivi. Due di questi elementi variamente combinati. Patre, invito, come lo si traduce in italiano. Di nuovo le tre possibilità. Proviamo con l'espressione nominale. Contro la volontà del padre. Oppure con il gerundio presente di essere. Essendo il padre contrario. Proviamo di nuovo a utilizzare anche una traduzione più esplicita, più precisa. Questa volta direi che possa andar bene un valore di subordinata concessiva. Utilizziamo un anche se. Anche se il padre era contrario. Come vedete dunque le combinazioni possibili sono molte, ma c'è un comune denominatore. Non c'è mai il participio in latino. Ecco cos'è un ablativo assoluto nominale. In nota un'ultima piccola precisazione, però credo abbastanza importante ed è una cosa di uso frequente. La prima di queste formule, quella tutta colorata in giallo, la formula nome più nome, è molto utilizzata in latino per dare indicazione del nome dei consoli, cioè per indicare in che anno siamo. Un esempio, la frase Marco Messalla, Marco Pisone Consulibus. È una sorta di frase fatta, di formula. Vedete, prima l'indicazione dei nomi dei due consoli in carica è poi proprio il loro titolo, la loro carica, Consulibus, tutto scritto in ablativo. È un ablativo assoluto nominale di forma nome più nome. Come lo traduciamo in italiano? Beh, qui forse sta bene un'espressione nominale, anche più veloce la traduzione. Sotto il consolato, o se preferite durante il consolato, di Marco Messalla e di Marco Pisone. Cioè, se volete farla esplicita con una temporale, quando erano consoli Marco Messalla e Marco Pisone. E comunque questo caso più raro e particolare è l'ablativo assoluto nominale. Spero che queste tre brevi video lezioni sull'ablativo assoluto vi siano state utili. Se non avete visto le precedenti cercatele, ci sono i riferimenti in descrizione. Se vi sono stato utile lasciate un like a questo e ai precedenti video. Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale YouTube e, suggerimento, andate a cercare la playlist Pillole di latino. Troverete decine di video lezioni come questa. Grazie a tutti per l'attenzione e arrivederci al prossimo video di latino o di italiano o di storia. A presto!